Anacapri, bandiera blu, Massa Lubrense, bandiera blu, Vighe Quenze, bandiera blu, Ratta di spiaggia che va da Cala a Finocchiara, a Cala a Pozzillo, manca a dirlo, bandiera blu, Angolo Baia, Arena blu, bandiera blu, bandiera blu cobalto, con nuance blu notte, ton sur ton, Picciotta, località, tutto il Cilento, sotto e sopra il Cilento, nella fattispecie del zona di Ficaiola, Torra Cavella, Fosso della Marina e delle Marianne, Petracciaio, marina blu, marina acqua bianca blu, Latte di colablu, fronte di ghiostro dei gelati, un bel blu. Buonasera Presidente De Luca, la campagna è seconda, con 19 bandiere blu dopo la Liguria, complimenti. Dopo? Dopo la Liguria. Che cos'è? Allora, la regione Liguria ha avuto più bandiere. Cos'era la Liguria? Mi ricordo, è una regione importantissima. La Liguria. Liguria. Ma dov'è? Sa benissimo. Certo, certo, certo. Lei è di? Io sono di Torino, ma non c'entra niente. L'ha già fatto l'appello per il vaccino, quello che lo faccio io. L'ha già fatto, vale, sarò vaccinato, spero lunedì. Lei è di Torino. Ma basta che non cambi l'appuntamento. E chi è che ha più bandiere blu? È la Liguria. La Sardegna? No. No, la Liguria. La Liguria. La Sicilia, forse. Ma perché non prendere... Ma che cos'è la Liguria? La Liguria è una... È quel tratto di costa schiacciato dagli appennini. Sì. Che è fatto così a curve. È fatto a C, che se la mette lì è culo. No, no, ma no, lo dico, per l'amor di Dio. No, no, no. La Liguria ha più... Ma si goda le sue 19 bandiere. Per l'amor di Dio. Senza stare... Erano 25, ma comunque... Sì, la Liguria. Come erano 25? No. In origine le nostre bandiere blu, solo perché le nostre bandiere blu erano 20, 100. Erano 25. Erano 25. Qualche mariolo se ne ha rubate 6. Va bene, va bene. Però insomma... 6. Per fare che? Cosa? Il parcheggiatore abusivo di aeree a Capodichino ha preso... No, ma no, no, no. Ha preso le bandiere. Venga dottor, venga dottor. Tutti i bimotori, tutta a destra. Carichi la coscia a destra. Senta addirittura. Ah, che belle però queste bandiere blu. Io quasi quasi, ma le tengo. Eh, là ce ne sei già tenute perché hai fatto venga dottor. Va bene, va bene. Ma guardi, sono 19, sono tante, sono belle. 19 bandiere blu. Venga dottor, venga dottor, venga dottor, venga dottor. Ah, mamma mia, sì. Il nome con cui sono noto nel mondo. Please dear brothers and sisters, come to Capri and enjoy the music. Sì, cosa fa? S'ha viss rubata nata. Ha rubato? Non era così, eh. Vabbè. Dio che hai rubato a me. Cosa parla? 200.000 dossi. Ancora costi vaccini. Eh? E vorrei sapere perché. Ma non gliel'hanno rubati. Figliuolo. Cosa c'è dentro adesso? Ridammi la strazeneca. Mamma mia. Eh. Sto braccio hai fatto ghiagnere. Eh, sì. Lacrime sanità. Non è il caso, guardi. Bravo, canta molto. Delinquenza politica. Come here, dear friends. Come here, bill of loads. Tutto in inglese lo fa stasera. My house is your house. La mia casa è la vostra casa. Vai maestro, maestro, mi dia un mi. No, no, no. No, un mi no, no, un mi no. No, ha ragione, è la targa di Milano. No, 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 dico basta. No, 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 mi dia un la. Ma no, no. Come ce l'ha la? Ce l'ha bemolle? Sì, ma non so. Sabato, domenica, domenica, domenica. E si capisce. No, perché io posso... Allora. Stava parlando spagnolo. Mes amis turistes, turistes, mes amis turistes, venia capri. Va bene. L'espressione tedesca. Mein turisten frunde kommen nach capri. Sua ili. Sua ili. La fiche zagubang du gassanna capri. Ma cosa fa? La prego. Zagandagunna capri. Capri, capri. Chi suoi? Faccio come il Papa, do la benedizione urbi de torbi. Va bene. Visto che come potenza mediatica, più o meno, ce la giochiamo. Venite a vedere l'Italia che è un paese bellissimo. Tutto. Oh, esatto. Tutto. Esattamente. L'Italia è un paese bellissimo tutto. Esatto. Dalla reggia di Caserta, Pompeia, Pestum, alla costiera Amalfitana e che dire dell'artigianato di San Gregorio Armeno. Casualmente. Stai dicendo solo luoghi della Campania, eh? Ve le faccio notare. E che devo dire? Luoghi della Liguria? Di Torino? Ma anche, certo. Ma che bene. A colpa io se i posti che vale la pena vedere stanno solo qua. Ma non è vero. When the moon hits you, a lucky bee, pets fire, fragola. Oh, fragola. Ce l'ha infilata, guarda che fazzesco. Venite, venite amici turisti, ad assistere al campionato più bello del mondo, la Campan League. Cos'è? Adesso che la Salernitana è andata in Serie A, dove c'è pure il Napoli, altro che Champions League, con squadrette come il Real Madrid, il Manchester City, la Campan League, il derby Napoli-Salernitana, farà apparire la finale dei mondiali. Una gara di sputo di seme d'anguria. No, non credo. Però sarà un bel momento. 3,90. Lo dico solo perché se al Super Bowl Shakira fa lo show d'apertura al San Paolo, il giorno del derby Shakira, poveretta, venderà le bibite insieme a Di Maio. Addirittura. Peccato che in A non ci sia neanche il Benevento, purtroppo non c'è più il Benevento, il Benevento è retrocesso per delinquenza arbitrale. Dopo la delinquenza politica il Benevento retrocede per delinquenza arbitrale. No, lasci stare gli arbitri e non comincia anche poi col no. Ha ragione, in effetti devo ammettere che gli arbitri hanno sì colpa, ma pure avere come sindaco a Benevento. Cosa? Clemente Mastella. Già tanto che il Benevento non sia stato retrocesso a palla velenata. Cosa c'entra il sindaco? Guarda caso, la salernitana è andata in A. La salernitana è andata in A. Il sindaco di Salerno per una quincina d'anni, mandati dal 1993 al 2001, al 2006, al 2011, è stato il sottoscritto che ha esplodato le sue funzioni con rigore e deficienze. È vero. Rigore e deficienze. Tanto che a Salerno la precedenza non è a destra in ordine alfabetico.